La vedo difficile. Allora vabbè, parto dai tre stelle però, eh? Partiamo dai tre stelle, vediamo se riusciamo a fare qualcosina qua. Allora, i tre stelle in realtà mi davano... mi hanno dato una buona dose di fortuna. Ok, Cloud non è vestito. Si guarda attorno. Ah, c'è stato un piccolo lagghettino che è come su Aperomnia quando escono le bitti, eh? Una roba simile. Doge. Due. Cloud e Red. Attenzione. 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 Cloud e Red. Attenzione. Cloud. Allora, Cloud mi piacerebbe o la Murasame o la Maritim, se devo essere sincero, perché ha un solo overboost. Uuuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! Secondo overboost! Daie! 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 Red non me ne frega un cazzo. Red ora mi sarà uscita sicuro. Vediamo? Vediamo se mi è uscita la solita. Perché Red me ne esce sempre una. Aspetta, lo slick collar qual era? Oddio, non me lo ricordo. No, ho sbagliato, cazzo. Allora, utilizziamo un metodo geppino. Allora, voi dovete sapere che io per Red 13 ho una maledizione. Mi esce sempre la stessa arma di Red. Ho un'arma di Red che praticamente l'ho portata quasi full overboost perché mi esce sempre solo quello. Oddio. Altro laghettino? Attenzione! Laghettino? Ho visto un laghettino di Cloud che ha guardato così per tre quarti d'ora? Quindi, altra arma che mi serve? Is possible? Uuuuh! Perry! Madonna mia! Madonna mia! I migliori ticket della mia vita! Allora, c'è Zack, Tifa e... Ci sono Zack, Tifa e Matt. Allora, per Tifa le Tiger Fangs. Per Tifa mi servono le Tiger Fangs. Per Zack mi va bene qualsiasi cosa, perché tanto T-Zack bene o male va bene. E di Matt la Prime Number, così almeno gli faccio l'overboost. Ti prego. Allora, Zack va bene tutto. Sinceramente mi sta bene tutto. La Falcon! La Falcon! Il quarto overboost della Falcon! Una delle migliori... Madonna! Incredibile! Incredibile! La Falcon, quarto overboost. Allora, Tifa... La donna Tifa e Tiger Fangs, vediamo. No, il motor... Ah, oddio! Motor Drive non sono male. Motor Drive non sono male, anzi. Ben vengano. Una delle armi più forti del gioco, praticamente, come substats. Cioè, come... Come Refined. Ok, di... Madonna. Una Prime Number sarebbe ideale. La Kimmer Hornet! Un poverboost! Ma che cazzo di ticket! Ma che cazzo di ticket! Ma che cazzo di ticket mi sono usciti! Cioè, veramente, tutte armi ottime mi sono uscite. Mi sono uscite tutte armi ottime. Ecco, ora passiamo alle delusionali. Qui ora si passa alle delusionali. I quattro stelle... Oddio, chi è? Ionina! Ionina! No, vabbè. Allora, le quattro... No, quattro stelle non mi esce un cazzo. Già ve lo dico, eh. È inutile che qua ci fomentiamo. Quattro stelle più per me non esistono più. Non, 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 non mi illudo. Non, non mi illudo perché le quattro stelle più mi portano sfiga a me, quindi... Non, non, non... Non neanche ci credo, neanche ci credo. Guarda, ora parata. Guarda, 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 uno, due. Addirittura due! Eris doppione! Allora, tecnicamente... Qua ci starebbero... Due Prism Rod... Oppure una Fairy Tail e una Prism... Minchia, la Katlass quattro stelle, tra l'altro. E forse la Katlass quattro stelle, manco ce l'avevo. Chiamatemi per altri pool fortunelli. Brava Yuna, dammi... No, madonna. Stavo uscendo una roba incredibile, meno male mi sono fermato. Madonna, mi sono salvato in calcio d'ango. Fairy Tail? Che va al terzo per Boost? Oh, ma oggi le sto azzeccando tutte! Ma che incredibile! Cioè, le sto azzeccando... Prism Rod? È possibile la Prism Rod? Cioè, ormai le chiamo. Prism? Oddio, finalmente! La Mitril Rod che mi mancava! Forse possiamo tentare... Forse possiamo tentare la X3 adesso. Forse possiamo tentare la X3. Finalmente la Mitril! Finalmente la Mitril! Finalmente la Mitril! Pazzesca! Non capisco una fama di questo gioco, mi fomenta a caso. Brava, esatto! Mi devi fomentare a caso, così. Come noi, senza capire niente. Senza... Senza problemi. Ok, Cloud non è vestita. Madonna, la Mitril la desideravo tanto. È un'ottima arma la Mitril per Eris. Me l'ero quasi anche scordata addirittura. Non ci credo, Perry gli ha fatto. Una sola. Di Sephiroth? Attenzione! Allora, se di Sephiroth è uscita la Wing Edge, diventa full rosa stasera. Se è uscita la Wing Edge, se è uscita la Wing Edge, se è uscita la Wing Edge va full rosa, full maxato. Eccoci. Ragazzi, nel frattempo io che ci siamo vi ricordo di partecipare alla ruota. Allora, se è la Wing Edge è full rosa, se è Sephiroth. Ah no, ok, va bene. La Northern Lights, va bene, non è male. Volevi! È già pronto lì col tasto. È già pronto lì col tasto. Appena... Appena ha visto che non era... Appena ha visto che non era... Inchia... È... Subito, pronto, lì. Era lì col tasto. Era pronto, era pronto.